Salve a tutti amici e ben trovati. Non accenna ad attenuarsi il flusso atlantico che a fasi alterne porta numerose perturbazioni che vengono ad interessare ovviamente anche l'Italia. Tutto probabilmente potrebbe cambiare con la prossima settimana quando arriverà aria più fredda, soprattutto dal fine settimana, cioè tutto potrebbe cambiare, diciamo che potrebbe cambiare almeno l'aspetto termico quando avremo temperature infatti un pochino più consone alla stagione. Intanto andiamo a vedere il tempo che farà una giornata all'insegna del tempo in peggioramento perché la perturbazione porterà da primo un peggioramento al nord e poi il peggioramento si estenderà a gran parte anche del centro Italia e della Sardegna. Il sud rimarrà ancora in una fase di attesa, un'attesa comunque che purtroppo si interromperà nella giornata poi di giovedì. Le temperature intanto su mercoledì saranno pressoché stazionari al più in lieve diminuzione nei valori massimi al centro nord e poi come ho detto tra giovedì e venerdì questa perturbazione si sposterà rapidamente verso Levante. Giovedì avremo ancora un po' di incertezza sul nord est, al centro Italia, sulla Sardegna ma il tempo comincerà a peggiorare anche al sud e venerdì sarà una giornata un po' più tranquilla al centro nord seppure all'insegna della moderata variabilità un po' più instabile invece il tempo al sud dove sarà possibile ancora qualche pioggia sparsa. Su venerdì cominceranno un po' a calare le temperature perché comincerà a farsi sentire l'aria un po' più fredda che se tutto verrà confermato dovrebbe cominciare ad interessare dapprima il centro nord a cavallo del fine settimana ma avremo modo di riparlarne. Per adesso è tutto amici a pitardi.